Da 50 anni, noi della Casa di Cura Giovanni XXIII siamo al tuo fianco promuovendo benessere ed innovazione. E sai come lo facciamo? Investiamo nel capitale umano e in tecnologia, crediamo fermamente nella ricerca e siamo sempre vicine alle persone che si affidano a noi. Questo è il nostro impegno quotidiano. Casa di Cura Giovanni XXIII a Monastier Treviso, un'eccellenza a livello nazionale. Vicino a casa tua, direttore sanitario Ugo Coli, medico-chirurgo.